Diciamo che le frittole sono una tradizione per Reggio Calabria, Reggio Calabria in onore dei festeggiamenti mariani, cosiddetti, quindi cominciando dalla Madonna delle Grazie di Gallico Superiore a questa tradizione culinaria che si rappresenta e si manifesta ogni anno e si rinnova ogni anno da vecchie e vecchie tradizioni proclamate dalle persone che hanno dato vita a questa cosa, dai nostri forse trisavoli addirittura, i nostri trisavoli organizzavano questi grandi calderoni fuori che oggi purtroppo per le normative igieniche e sanitari non è stato più possibile e si facevano tutte queste due, tre, quattro calderoni di frittole per ogni macelleria, ogni macelleria rappresentava con questi tavolini fuori questi panini imbottiti con queste frittole, con la salsiccia, con le patate e via dicendo e quindi era veramente questa attività a attirare anche la gente e a rappresentare queste feste mariane. Un po' c'è nelle tavole di un granicesimo, non può mancare il panino con le frittole sicuramente, la tradizione lo vuole anche con questo caldo, anche con questo caldo in questo tempo un pochettino tiepido, altrimenti non è festa madonna. E quanto sta a vettere questo signore? Eh beh, Barce e Bistrò è una persona, Franco Cangemi è una persona che fa le frittole alla vecchia maniera, ancora con i vecchi calderoni, con le vecchia tue, sai il fatto suo, infatti voglio dire, è imparato dal papà e poi la tradizione è aumentata con le modifiche, figlio d'arte sicuramente, quindi ci fa degustare queste frittole veramente, veramente buone. E credo che quest'oggi porti le frittole a casa perché qui a Gallico, in ogni famiglia oggi ci devono essere frittole le frittole? È una tradizione che va avanti da penso qualche secolo, io personalmente sono cliente da Franco dal 1987, ma prima di lui ero cliente dello zio, ero cliente del, no di tuo padre mai, ma dello zio sicuro, quindi è un rapporto tale che esula comunque dalla bontà del prodotto, in tutti i casi eccezionale. Diciamo che nonostante il caldo, le temperature alti quest'anno, però oggi le fritte non devono mancare a Gallico. Assolutamente, anzi ora si vada più alla dieta, al colesterolo, all'azionale, ma una volta si mangiavano le fritte, la frittole pranzo e cena da sabato a martedì, cioè c'era veramente da riuscire a tentare di venire fuori vivi. Il signor Franco ci ha detto che queste qua sono dieteva. Assolutamente, assolutamente, i migliori dietologi le consigliano perché per la bontà e soprattutto per queste caratteristiche non solo organolettiche ma anche dietetiche, soprattutto quelle dietetiche che vengono apprezzate molto, penso ai clienti.